questo qua è fatto da all'america che credo sia a laboratori ho tre giochi da proporre se vincolo a roba ok l'anno è 2056 qualcuno o qualcosa ha rotto ha rotto le difese principali e sta bloccando l'accesso al sistema di backup ovviamente se il programma che controlla le nostre armi nucleari viene alterato il nostro pianeta potrebbe ridursi a un ammasso di cenere in secondi minchia partiamo benissimo il conflitto è inevitabile la nuova immagine che si è sviluppata sembra sarà la nostra ultima speranza immagine trasferita system trasferme un favoloso processo che permette alla mente umana di convertirsi in data binario rendendo possibile viaggiare facilmente dentro i circuiti del computer ma la conversione ma la conversione è completamente non è stata completamente testata se una mente umana viene cambiata in data che forma prenderà quando verrà riassemblata dentro il computer cosa cambia alla psiche che cazzo ma che trauma è madonna incredibile nessuno lo sa quello scelto per questo pericolo la seriosa missione il coronello scotto connor 25 anni allenato nel corpo dello spirito e conosce computer hardware e software lui è la scelta perfetta ora nell'images transfer machine si sta preparando per un viaggio per provare a salvare la sua nazione il suo paese la sua civiltà la sua gente madonna andiamo con kabuki quantum fighters oh si c'è nel ve l'avevo detto c'è anche nella ruota vedi che c'è scritto un podio verrà estratto i vincitori potranno far riportare un videogioco il live della durata massima di minstorio è scritto su non to beat il primo posto meno di 40 ore il secondo posto meno di 20 ore il terzo posto meno di 10 ore si c'è un podio pensavo pensavo si capisse e castelbè boh ora vediamo dimmi dimmi sono biond chiedo scusa perché io leggo e ora lo sai anche la busta di capelli cosa sia questa è stata però non però non 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 All right, a salty beer non so neanche com'è la difficoltà di questo gioco ma so che devo fare attenzione a giocare ma che cazzo ma perché combatte con i capelli non lo so ma cos'è il chip? è qualcos'altro a 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 non so cosa sia desert bus non lo conosco cos'è attention attenzione un invasore nel programma il programma dell'area il sistema di difesa in area 1 è stato distrutto sta procedendo all'area 2 dovete trovarlo dovete trovare l'access point immediatamente e tagliarlo a a a a a can suonatore di un viaggio in basso da Tucson a Las Vegas un run dura otto ore di fila otto ore di fila? madonna ho capito a che stavano i chip ora non ho solo i capelli madonna mi piace un sacco sta cosa come si muove bastardo ma hai detto ma posso colpire mentre sono in ah fai i calci sto crepando male ho partito con l'action su un Ness di Giopparo via non potremmo ne mettere pausa otto ore di fila aspetta però in che senso? ci hanno fatto una collection di ste cose non potremmo ne no 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 lo c'è un sacco come si muove poi perché Kabuki non lo so però va bene lo stesso solo i giochi sono più scherzi ok vabbè roba che prendeva il culo però cazzo 8 ore bastardo non potevo sapere comunque è figo ragazzi le cose bullshit da giocometto c'ha però anche no a volte l'ho visto giocare in eventi benefici ah facevano tipo le maratonine o cose così oh ci sta oh lì c'era un one up che sta succedendo oh mio dio time over l'ho notato solo ora che va a tempo oh mio dio questo no voglio dire questo tempo ci proviamo lo stesso ho perso delle cure potrebbe essere un problema potrebbe essere un problema potrebbe essere un problema ma c'è un problema ericino gero andata cazzo è a tempo il gioco è venuto l'ora in basso a destra che c'è il tempo minchia se ho rischiato il colonnello è stato catturato nell'area di programma disastro il cellulare del colonnello le 11 cellule del colonnello si sono fermate la sua vita il sistema di supporto alla vita lo sta mantenendo ma non sopravviverà a lungo in questo modo veloce trovo un altro periodo di attacco tentando di raggiungerlo the fusion gun has been added to your arsenal win 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 ecco spero perché il gioco è a tempo e c'è la lore la vita la manteni anche per dopo che è il gioco il gioco il gioco il gioco il gioco il gioco Oh cazzo, e lì come faccio? Power of safe states a me! Che vorrei prima il trostatale e ci riesco Quello è tipo ghiaccio Ma una cosa del tempo ragazzi Mi fa impazzire Adesso mi viene un'ansia nel dover correre E' una cosa che proprio mi Mi fotte del cervello Dai però Non ci arrivi Madonna Ah non ci riesco più L'ho fatto prima La solita cosa Uscissi alla prima botta e poi Non so come fai a fare in tempo Mi piace un sacco il movimento comunque Il movimento è bellissimo Aspetta Ah posso salirci pure sopra Ok Se sono così posso salirci pure sopra Ok Quante trappole hanno lì Oggi C'è poco capito invenzione C'è poco capito invenzione Spresorio Spresorio delle cure Spresorio delle cure Madonna Ok Ripartiamo da qui Con full vita Non so se i giochi partono facile E poi Diventano tosti Oh my god Mio dio No ma come sei scivolato Ah forse ho capito come fregare il sistema Forse Ma non cadere Madonna Ok L'abbiamo fatto Ora precision platforming No scusate Non posso sbagliare No 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 Qua devi fare per forza per bene Quel ghiaccio lì Non fa assidio Vai No 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 è troppo forte il fratto non difficile sempre non sapere neanche assolutamente non hai visto quanto so forte non sto morendo sono morto prima ma è un altro discorso Cristo Jesus Christ in Disguised il ghiaccio mi forte il cervello e il fatto di dover andare di corsa davvero mamma mia perché facevano queste cose no no troppo presto dobbiamo molto più rontano no c'è piano però basta perdere ma che cazzo cosa mi ha fatto male no ah quello sopra fa male adesso non ci sono nemici da sconfiggere o quasi per niente è più una questione di platforming preciso ok bastardo maledetto un po' con un cimorio deforma solo il tempo per farlo vabbè ma si è un po' stronzo però il gioco mi piace il gioco è figo questi movimenti sono davvero belli in realtà il gioco non sembra particolarmente difficile per il momento almeno però è tosto ok lì devo veitare ok devo veitare per bene tra le grazie che cos'è a gioco vecchio che è tostissimo ok se salto prima non parte oh madonna santo dio movimenti sono belli ma non sono fluidi a quello che lo prega anche questo è vero perché comunque ha il classico jank da gioco vecchio cioè normale anche per carità buona vita comunque era tutto platforming questa sezione che cazzo lo scrivo aspetta forse posso saltarlo aspetta devo capire un attimo una cosa vorrei vedere se è con un salto preciso che posso saltarlo sì sicuramente sì sì eh sì vabbè se lo fai due volte si è un po' stronzo ma io non posso sapere quando smetterà il stronzo non posso sapere se lo fai due volte ma io non posso sapere se lo fai due volte si è un po' di danno ma le mie vite quali sono perché è quello zero quello per zero là sotto sì che culo finalmente il nostro eroe è stato collegato con l'area del programma la sua la sua la sua posizione presente sarà distrutta le difese nell'area 3 sta procedendo nell'area 4 colonnello rispondi colonnello Connor sono Scott perché le linee di comunicazione le linee di due perfetto sono state disturbate dopo la grande onda shock shockwave il punto di entrata è stato chiuso dopo che è distrutto circuiti di difesa nell'area 3 abbiamo trovato un circuito speciale e c'è un nuovo vari domini di amici vai nei circuiti di difesa nell'area 4 più veloce che puoi quantum bombs have been added to your weapons list oh micchia ok anche molto horrorifico queste cose ma dio il problema è che donò più vite quindi devo fare attenzione attenzione che non sto facendo vabbè non si è un po' strozzo devo fare molto attenzione ok pure ok non mi toccare mi ha toccato dga eccom ci vabbè 5 vabbè la oh ball 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 Cazzo, sto calendo. Botta di ossa. No! No, beccolo, cosa non la devo fare? Cazzo, sto calendo. C'è un po' di stile, proprio, quello stile horror. Ok. Ok. avevo dovuto immaginare che lì mi facevo danno smettila di scappare posto posto in segmentare Aspetta, forse mi conviene andare sopra Ok, ho capito, va? Voglio usare più spesso gli attiti per gli attacchi, così No Il problema è che questo mi tiene conto del salto Ok Mi piace questa Tanta vita Non mi starà addosso Questi che sparano No, best niente, best niente Best sospendi, best banna Per me è giunta l'ora di salutarvi Che sto morendo di sonno Buonanotte Emug, ci sentiamo Ti va, ci vediamo domani sera, buonanotte Buonanotte Emug, ci sentiamo domani Buonanotte Emug, ci sentiamo domani Sì ma Come li gesti? Ma cos'è? È allucinante Ok, uno l'ho distrutto Buonanotte Emug, ci sentiamo domani Buonanotte Emug, ci sentiamo domani oh madonna si li posso colpire buonanotte li posso colpire però buon'idea buon'idea di una pessima non ho un'idea quasi ucciso non è facil il punto è che è davvero difficilissimo colpirli ok è morto però questo dovrebbe scendere perché se no io non posso non lo posso colpire asciugare cazzo è tosta cazzo è tosta madonna cos'è questa boss fight tra l'altro scomodissimo scomodissimo cambiare le devo fare select per cambiare scendi qua sono un set scendi qua scendi qua allora il boss che finora erano un po' una cazzata ora c'è questa roba che è allucinante devi schivare 50 proiettili di tira non riesco a colpire cioè rendi conto se stanno bassi non li posso neanche colpire è davvero bastardo non riesco a colpire metto una guida ti interessa? va bene e cosa dice la guida? va bene posso andare al terzo dopo che spara due volte ah ok lo devo baitare però tutto è che mi devo spostare che non mi piglia ok è sceso ok grazie non avevo idea dovevo per forza aspettare che sparasse ok grazie grazie ma lei ho messo il contatore di fps per sbaglio io come cazzo l'ho messo cosa ho premuto vabbè il contatore di fps giù si è avevo trovato l'invasione del nemico guarda il monitor ma cazzo l'ho messo di fps la so aspetta guarda il monitor è il satellite di cerca di aperion ma pensavo che fosse stato perso da anni anni fa sicuro che sia l'hyperion certo sono sicuro sembra che sia controllato dal computer è un successo dell'atellite usato in battaglia contro di noi ma pensavo tutti i nostri prob spaziali sono usciti per per disfuso di usciti eh ma io non lo uso però non so come cazzo l'ho attivato non possiamo fargli lo saltare in aria non è così semplice il programma è nell'area 5 in cedizio c'è andare non possiamo arrivarci colonnello hai sentito puoi andare a spaccare il sistema di difesa nell'area 5 roger sulla mia via on my way and I use the remote control bolo cazzo è il remote control bolo minchia vortissimo non ci sia non ci sia non è male anche ma che cazzo non è male neanche la host comunque oh, one-up! ho preso un one-up non mi chiedo che non è indietro oh, ogni tanto che mi salta ma perché tengo premuto il tasto salto perché non mi fido del mio stesso salto un po' un problema ma che cazzo? ho svolazzato male l'altra è la solita cosa che alla prima ci riesco e poi non ci riesco più è davvero pazzesco un po' 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 un ok sono un po' stronzo allora non sapevo fin quando arrivavi dovrebbe essere sopra ok ok mi sembra di stare piuttosto bene se vuoi trovare anche come recuperare l'energia così non hai più bisogno di ricaricare ogni danno preso perché si può pure ricaricare l'energia si può ricaricare l'energia davvero così va vabbè l'energia intendi la vita l'energia l'energia intendi la vita start è solo per cambiare chip con vita o giù il contrario no vabbè start mette solo pausa forse intendi select solo durante le boss oh mio dio capito aspetta un secondo fammi mettere no vabbè 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 No 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 Madonna Santa Cazzarola Pure molto lunga Mi drolla Mi drolla Oggi sono io quello che si fa male coi giochi Ma mi bello è che mi piace però è tosto madonna Vabbè quello che può succedere sempre nel retro one shot non si fa mai quello che può capitare Anche in questi casi E anche il bello del retro one shot Bello è il brutto Poi tu ti fai molto più male di me onestamente Io Cristo non Per non non buonasera di nuovo buonasera dai su vieni qui 25 dai cazzo cazzo quanto è lunga sta sezione ma incredibile il problema è che c'è pure il tempo quando succedono ste cose vorresti ammazzarti vabbè ho capito mi è venuto a fare sprecare oh mio dio ok siamo arrivati madonna ora metto su una data delle boss fight voglio vedere sta cosa oh madonna allora oh 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 ah minchia ho capito ora cosa vuole che faccia con me se non funziona no non me la prendo con se ma c'è un modo per scendere direttamente eh dio sto salto oh 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 il massimo, però. Ma è stato così difficile questa volta. Ma grazie alle granate, eh. Ci mancherebbe pure. Granate di ramite, ovviamente. Come abbiamo fallito il nemico? Ha disattivato l'hyperium cell destruction program? C'è qualcosa che possiamo fare? Nulla? Forse c'è qualcosa che possiamo fare. Ok. Se riusciamo a mandare il colonel l'hyperium, ma in computer, we might be able to reactivate the directory. Ok, quindi riattiviamo immediatamente il self-destruct, è la nostra unica possibilità. Questi sono Scott. Ho sentito cosa ho detto. E' stato 1000B. E' stato 1000B. Ok, colonel, la sua missione, lui, sta andando. Approaching the final battle. Ok, final battle. Ah, ma è la boss... è direttamente una boss fight. Oh, tu avessi che insieme dal cielo. Allora... Questo è quello che sta fare. Ok. Bah, hai la Гiro. A qualctors... Oh, tu avessi che... Ah ma è una vera. Oh... Oh... Oh, tu avessi che... quello di Contra è vero un po' no ma è troppo facile esserci qualcosa sotto è troppo facile ok lo rifaccio allora la prima fase la posso fare tranquillamente senza sprecare niente è facile ci metto un po' ma lo posso fare senza utilizzare il povero però non mi devo fare colpire anche se non è facile colpirlo perché l'attacco volante non è così tanto preciso però perlomeno è facile non spreco niente lo schievo facilmente e lo colpisco anche se con calma lo colpisco e lo batto quindi non è un livello l'ultimo è solo la bossa e finale ok Espegato un po' ...velo scissato a colpirlo? ... 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